Con tanto di Giacone sono qui per voi per Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi. Il primo si intitola Vite brevi di tennisti eminenti. Ebbene sono dei racconti che narrano la vita e leggesta di alcuni tennisti ormai passati alla storia negli anni 30 40 50 e sono racconti davvero particolari dove il tennis ovviamente viveva un'epopea completamente differente dalle macchine infernali che sono diventati i giocatori di oggi. Un libro davvero curioso ricco anche di belle fotografie d'archivio. Il secondo libro si intitola La ragazza che scrisse Frankenstein vita di Mary Schilley. Ebbene è una biografia dove appunto viene raccontata la vita di questa grande donna della sua epoca che aveva scritto questo libro straordinario particolare la vita di un personaggio mostruoso di un uomo in fondo fatto con i resti di altri uomini. In poche parole Frankenstein. Ebbene è un libro davvero grazioso che vi consiglio e vi aspetto con le vostre segnalazioni. Alla prossima molto modestamente alza il volume.